Alberto Avetta, sindaco di Cossano Canavese, presidente di Anci Piemonte, ma anche consigliere metropolitano, quindi conosce bene le dinamiche dell'ente di aria vasta. Questa nuova casa di Anci Piemonte per fare che cosa? Per stare vicini in che modo ai comuni? Per noi è un ritorno a casa davvero importante. Credo che Anci abbia davvero trovato la sua casa perché, così, anche un po' sulla scorta dell'esperienza della provincia di Torino e oggi città metropolitana, noi vogliamo davvero essere un interlocutore fraterno per i nostri amministratori locali. In Piemonte ci sono 1200 comuni, sono tanti, tanti sindaci, tanti amministratori locali. Davvero ci auguriamo che questa sia non solo la casa dove loro vengono a raccogliere formazione e informazione, ma anche dove magari possono venire per annunciare un loro progetto, per fare una conferenza stampa. Noi davvero vorremmo che qui fosse aperta a tutti i 1200 amministratori piemontesi. Soprattutto i piccoli comuni che sono quelli che hanno più bisogno di formazione e informazione? Ovviamente sì, noi investiamo molto sulla formazione dei nostri amministratori, dei nostri dipendenti, sui progetti europei, investiamo sulla formazione per quanto riguarda la ragioneria, la contabilità dei nostri enti pubblici e poi facciamo tutta l'attività propria nostra che è sindacale, cioè quella della difesa delle istanze dei nostri amministratori. Soprattutto quelli piccoli, perché in Piemonte su 1200 comuni 1066 hanno meno di 5000 abitanti. Che rapporto c'è con le province piemontesi e con la città metropolitana di Torino? Noi, un caso unico in Italia, rappresentiamo Anci Piemonte e rappresenta anche le province piemontesi. L'avevamo fatto, l'avevamo voluto fortemente questa rappresentanza. C'è una consulta ovviamente delle province piemontesi con cui lavoriamo in grande sintonia e oggi il presidente della provincia di Asti, Marco Gabusi, è il coordinatore delle province piemontesi e noi riusciamo, grazie anche al fatto che le province sono governate di fatto dagli amministratori con elezioni di secondo grado, riusciamo davvero, siamo riusciti in questi anni a rappresentare al meglio le istanze sia dei comuni sia delle nostre province e della città metropolitana.